Buonasera a tutti, oggi parliamo ancora una volta di emergenza abitativa come mi suggerisce l'amico Nino Rocca che è qui presente in studio e fa parte del comitato 12 luglio per la volta per i senza casa. In studio anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle la Viviana Lomonaco che cerchiamo di coinvolgere in questa battaglia perché battaglia di vera e propria si tratta perché ne abbiamo parlato tante volte e anche questa volta siamo costretti a parlare di questo problema a seguito della morte di un altro senza tetto. Avevamo anche letto che per quanto riguardava il famoso Nino che pure quasi si trova proprio qua sotto lato dove c'è la sede della televisione, il problema fosse stato risolto e invece non è così. Viene accolto in un dormitoio pubblico durante le ore notturne però di giorno è ancora in mezzo alla strada e ripeto ce lo troviamo proprio qui in via Guardione, angolo via Francesco Cristi dove lui sta tutta la giornata. Ripeto, una situazione imbarazzante che ci fa vergognare. io almeno stamattina rivedendo Nino qua giù mi sono vergognato di essere palermitano e non trovare una soluzione per questo problema. Problema che per la verità noi abbiamo trattato tante volte. Non riusciamo a capire perché non si trovano delle soluzioni. Ne abbiamo prospettate tantissimo nel corso delle varie trasmissioni che abbiamo fatto da anni. debbo riconoscere che la battaglia che ha portato avanti Nino Rocca è stata sempre continua, streno, ma dobbiamo riconoscere che purtroppo i risultati sin qui conseguiti non sono stati quelli da noi voluti e richiesti. ieri abbiamo incontrato l'assessore assieme ad altre associazioni, assieme all'assemblea permanente, questa assemblea che si riunisce una volta alla settimana al comune a cui partecipano anche alcuni consiglieri e il comitato di rotta per la casa, abbiamo sollecitato l'assessore ad incontrarci per fare il punto della situazione dopo l'ennesima morte annunciata, la nona morte annunciata che è avvenuta nella notte del primo dell'anno. Allora l'assessore si è subito reso disponibile e ci ha fatto un quadro che è ancora più pessimistico di quello che noi pensavamo, intanto le persone che vivono per strada addetta dello stesso assessore che con vari gruppi di associazioni tentano di monitorare il fenomeno, sono arrivati a più di 400, a questi si aggiungono più di 100 persone che transitano stranieri, queste 400, i due terzi di queste 400 sono stranieri, un terzo è italiano, a questi si aggiungono altre 100 persone che sono 500 persone. Mai Palermo aveva raggiunto questi limiti di indigenza e di disagio. Rispetto a questo dobbiamo constatare che sin ad ora l'unica soluzione che è stata messa in essere dall'amministrazione è questo nuovo dormitorio di via Messina Marina che può ospitare soltanto la notte e la mattina è costretto a mandare via le persone alle 8, 8 e mezzo del mattina per poi riprendere la sera. Ora noi ci chiediamo, ci volete spiegare perché non è possibile utilizzare uno dei tanti immobili del patrimonio del comune che ben attrezzato può intanto ospitare qualche centinaio di persone. Come è possibile che Biagio Conte da un privato riesce ad ospitare 1500 persone? Un privato riesce non solo ad ospitare ma a dare vitto e alloggio e a creare una comunità al proprio interno. Più di 1000, sono arrivate quasi 1400, 1400 persone. Ora è mai possibile che una sola persona ricorrendo semplicemente alle offerte della popolazione riesce a mantenere questo ruolo. Il comune dovrebbe indirizzare intanto una struttura che possa servire appunto da centro di accoglienza. Una o più strutture. Una o più strutture. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, chiediamo quali sono le risorse che sono destinate ai senza casa. Una volta vi era un capitolo di spesa che era rimpinguato dagli affitti dell'immobiliare Strasburgo e che raggiungeva un milione di euro, che fu utilizzato male, dobbiamo dirlo. E poi successivamente non è stato più utilizzato. E poi questo stesso capitolo di spesa è destinato ai senza casa, è sparito. Non si capisce dove si è andato a finire e quali siano le risorse attuali. Terzo, e qua io mi appello anche al nuovo Consiglio Comunale. La maggior parte sono nuovi consiglieri, giovani, quindi persone che hanno una certa risorsa. Una certa sensibilità. Io mi chiedo, il compito del Consiglio Comunale è quello di vigilare sui bilanci, sul patrimonio, sui regolamenti. Ora, è mai possibile che dopo sei mesi, sono passati sei mesi, ancora non si riesce a fare il punto della situazione e non si riesce a portare a termine uno solo di questi problemi, quello del problema dei senza casa. E dobbiamo aspettare l'ennesima morte annunciata. Abbiamo letto che l'assessore ha riconvocato questo tavolo per il 18, però ripeto, noi riteniamo che già sia tardi. Il 17, il 18 è già tardi. Perché dobbiamo sperare che non muoia un'altra persona. Questi tavoli vanno organizzati prima, i problemi vengono adottati prima, non a ridosso, diciamo, in pieno inverno, quando ormai la situazione è abbastanza difficile. Comunque, noi abbiamo invitato anche Viviana Lamono, precisiamo che lei è un giovanissimo consigliere comunale. Tra l'altro non fa parte della Commissione dell'attività sociale, ma della Commissione della cultura, però è sensibile a questo tema, già l'ho dimostrato, perché si è attivata in tal senso. Ma il concetto quale è che noi desideriamo che tutto il Consiglio Comunale prenda a cuore questa vicenda, soprattutto le opposizioni, che siano da stimolo all'amministrazione per far sì che vengono approvati determinati atti deliberativi, a cominciare dal nuovo regolamento. Tu mi facevi notare che il regolamento, quello che è in discussione dal 2013, già sarà ormai obsoleto. E vabbè, ma intanto se tu ti puoi impegnare sin dal prossimo Consiglio Comunale a far sì che si parli di questo argomento e si porti avanti questo regolamento, o perlomeno ritorni in Commissione, la Commissione lo riesamina, lo emenda e lo riporta in Consiglio Comunale. Ma qualche cosa deve essere fatta, perché così non ne usciamo assolutamente. Tra l'altro poi si parla del argomento solo in occasione di qualche evento triste, dopodiché tutto rimane. Tutto ricadano. Allora io mi chiedo, se Palermo è capitale della... noi sapevamo della cultura, però invece ieri ho saputo che Palermo è capitale delle culture 2018. Ebbene, se Palermo è capitale della cultura, è capitale delle culture, lo dimostri, perché altrimenti è veramente una bidonata colossale. Se è la città dell'accoglienza, tale deve essere. E come lo dimostra? Intanto mettendo in bilancio le somme necessarie per far sì che Palermo sia capitale dell'accoglienza. Diversamente è una barzelletta. E a me le barzellette non piacciono. Sono pienamente d'accordo, Filippo. Il discorso è proprio questo. Ero molto indecisa quando ho preso della notizia della morte dell'ennesimo senza tetto, l'ennesima morte del senza tetto proprio l'altro ieri. Non sono riuscita a scrivere neanche una parola, banalmente, perché qualunque cosa sembrava fuori luogo. Già qualche... Hai fatto bene, perché ci sono state dichiarazioni da parte di tutti, però fatti concreti da parte di tutti. No, no, no. Io non sono riuscita perché qualunque cosa sembrava o un attacco o un'affermazione retorica. In realtà, purtroppo, sappiamo che anche il 21, mi sembra, dicembre, abbiamo avuto, siamo stati scossi da un'ulteriore notizia, quella del... quell'altro senza tetto rinvenuto senza vita. È cosa che mi ha portato, ha portato il nostro gruppo consigliare anche a redigere e presentare un'interrogazione al sindaco, perché ricordiamo appunto i nostri strumenti al momento come consiglieri comunali, sono quelli di cercare di studiare i documenti, di approfondire le tematiche, richiedere. Io mi sono, come ben detto, affacciata adesso a questo mondo. Anche se non è la mia commissione, ho iniziato a partecipare a questa assemblea permanente per il disagio sociale. I primi incontri sono stati proprio presso l'aula Rostagno del Palazzo di Città. E quindi mi sono confrontata sia con altri colleghi, consiglieri comunali, di altri schieramenti politici, sia con persone tolipellinali. Io non vorrei che ti toccasse la stessa sorta di Nino. Io sono diventato i capelli bianchi cercando di trovare una soluzione per questo tema, per cui lui lotta da trent'anni. Sì, ho visto. Conoscevo già la storia, infatti, di Nino. Io siccome sono testimone del suo impegno, ecco perché ce lo ritroviamo qua. Perché non è possibile che non si trovi una soluzione definitiva. La sensazione che ho avuto, la triste sensazione, come anche in altri casi, è una mancata comunicazione proprio tra gli uffici, tra assessori e dirigenti e funzionari, tra macchine amministrative e consiglio comunale, che dovrebbe essere l'organo veramente di controllo, come dicevamo, anche di impulso su tante cose. E adesso, dalla fase di analisi che stiamo portando avanti, spero che arriveremo proprio a una fase propulsiva, perché come vi dicevo, appunto, all'ordine del giorno, tra i vari punti, all'ordine del giorno del consiglio comunale, ci sono proposte di deliberazione proprio nell'ambito... Ma almeno tre, quattro. Ancora non lo sappiamo. Aspettiamo la conferenza di Capigruppo. Però possiamo sperare che alla prima convocazione del consiglio comunale, alla prima seduta del consiglio comunale, il Movimento 5 Stelle. Chiederà il prelevamento, sicuramente chiederà il prelevamento di... di alcuni di questi punti all'ordine del giorno, cioè, per darvi un'idea, parliamo appunto di... di regolamento... Allora, parliamo del... Sia di regolamento legato al volontariato, approvazione del regolamento di emergenze sociali, settore attività sociali, abbiamo una proposta di deliberazione del 10 dicembre 2013, regolamento per la destinazione e l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del Comune di Palermo. Allora, questo è del 20 aprile 2015, per cui sono tutte proposte, tutti atti che sono decaduti dopo lo scorso consiglio comunale... E quindi c'è la fatta vostra, c'è questo impegno? L'impegno c'è, io ho anche esaminato alcune di queste proposte. Bisogna vedere cosa accadrà. Dico, perché non chiedete che... Per esempio, sui beni, scusatemi, sui beni confiscati appunto alla mafia, vediamo che io ho cercato di fare un minimo di confronto tra il vecchio e il nuovo. Sto ancora... Devo confrontarmi anche con il collega che si occupa nello specifico di queste tematiche in commissione, in quarta commissione. Però noi abbiamo un utilizzo previsto per appunto uso abitativo, uso istituzionale e fini sociali. Però fini sociali, io mi preme ricordare, ed è mantenuto anche in questa seconda rivisitazione del documento, non significa che un'associazione può utilizzare un bene confiscato alla mafia esclusivamente come sede sociale, ma, sede legale diciamo della propria attività, ma è necessario un controllo, un monitoraggio attento da parte dell'amministrazione, che verifica effettivamente l'adeguatezza del progetto e la continuità del progetto dell'elettività portata avanti. Se vengono realizzati, non è un dettaglio, non è un attenzione, una posizione... Io ho pure qualche perplessità, però non ho elementi da giudicare, quindi non ne ho... Sono previste delle relazioni annuali, adesso semestrali, se verrà approvato questo nuovo regolamento, diciamo che è importante e non è un modo per attaccare attenzione, intendiamoci bene, ma è fondamentale che il Comune dia un segnale di attenzione e di verifica, perché questi beni devono essere utilizzati per finalità, proprio di utilità sociale per tutti, con degli scopi ben precisi. Una proposta, Filippo. Sì, ma io sai cosa penso? Che Orlando dovrebbe assumere la delega lui stesso, cioè dovrebbe gestire lui in prima persona, è una sfida che gli lanciamo. Tu sai, coraggio, prenditi la delega tu per il senza tetta, vediamo cosa riesci a fare. Noi sappiamo che sei bravo e quindi hai la possibilità di dimostrarla a chi non ritiene che tu sia all'altezza di farlo. È troppo semplice la cosa, è facilissima, perché lui con la sua autorità può dare un colpo di mano, può veramente dare una svolta decisiva a questo problema, perché ormai è una cosa, una barzelletta, è ridicolo, è ridicolo che ancora nel 2018 si lasciano le persone in strada. Dov'è la città dell'accoglienza? Io non so come definirla. Cioè poi dice siamo nemici della contentezza chi? Forse non lo so, chi lo dice? Perché la realtà è ben alta. La realtà è che una persona è morta e qua sotto c'è ancora un'altra persona che bivacca qua sotto e non sa dove andare, non ha a casa. Questa è la realtà. Al di là di quello che abbiamo letto sui giornali, la persona è ancora qua giù, a pochi passi da dove stiamo trasmettendo questa trasmissione. Io volevo fare una proposta molto secca, che avevamo già fatto nella precedente amministrazione e che ha avuto almeno alcuni risultati positivi. E cioè il Consiglio Comunale si faccia promotore di fare un consiglio straordinario sull'emergenza casa, all'interno del quale, perché già questa nuova amministrazione ha visto tre persone che sono morte per strada, l'ultima il primo giorno di quest'anno. Ora non si è sentito il bisogno di fare una riunione straordinaria, un'assemblea straordinaria sul problema dell'emergenza casa. Allora, io invito il Consiglio Comunale, è sufficiente raccogliere le firme di un certo numero di consigliere per chiedere in tempi brevissimi di fare questo consiglio straordinario e all'interno di questo consiglio straordinario cambiare totalmente passo e mettere in campo delle iniziative operative senza più discutere su quello che si dovrebbe fare e che non si fa male. Si può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di convocare un consiglio comunale straordinario. Un consiglio comunale. Quindi pensi che loro se ne potrebbero fare cari. Loro potrebbero fare cari, noi possiamo all'interno suggerire, sollecitare le nostre richieste per iscritto, come abbiamo sempre fatto rispetto a questo consiglio straordinario e darci dei tempi. Da qui a 10-15 giorni dobbiamo mettere in campo questo consiglio straordinario per l'emergenza casa e dobbiamo trovare delle soluzioni reali perché questa situazione è in continuo aumento. Non siamo riusciti. Tu volevo fare un ragionamento e dicevi che sono 500 persone che arrivano. Io ti dico pure una persona. Ah, certo. Non è che dobbiamo richiamare il Vangelo delle pecorelle, della pecorella smarrita. Non c'è bisogno. Cioè cambiare... Ormai abbiamo un grado di cultura di capire che tutte le persone debbano essere considerate come tale eppure una soltanto deve essere aiutata. Non è che noi le dobbiamo aiutare se sono 500 o 2.000 o 3.000 o 50.000. Quindi concentriamo... Se c'è una sola persona che ha bisogno, tutti ci dobbiamo mettere... Mobilitare. Mobilitare per risolvere il problema di una sola persona. In questo caso di un senza tetto, di senza tetto che vivono una situazione di estremo disagio sociale, psicologico, morale, eccetera. Sì, infatti anche diversificando un po' l'offerta di servizi, perché abbiamo visto appunto che ci sono una serie di situazioni... Ma non mi viene appena interromputo, perché dicevamo proprio qua. No, ma ci sono alcuni che non vogliono andare in una comunità, per esempio. E allora loro preferiscono andare a dormire, altri preferiscono rimanere assolutamente per la strada. Altri vanno a dormire e poi ritornano in strada. Noi abbiamo fatto un ragionamento poco fa, prima che iniziassero la trasmissione, che è dovuto al fatto che il Comune non è riuscito a creare una comunità, perché lì da Biagio Conte, come mai la rimangono in un altro... Cioè il Visco, rimangono attaccati. No, è perché là c'è una comunità, si è creata una certa solidarietà, c'è un certo affetto, un certo clima, per cui le persone là rimangono. Ecco, il Comune dovrebbe, o soggetti individuati del Comune, dovrebbero così che si creassero delle comunità in modo da creare i presupposti che in modo che la gente rimanga... Al limite di affidarlo allo stesso Biagio Conte. Tra l'altro poi sappiamo che molte volte determinate situazioni vengono pagate, ma paghiamole, facciamo sì, in modo che però si realizza una struttura del genere. Poi non voglio essere polemico con i parroci, le chiese, perché qua mi fermo, non voglio essere scomunicato, però dico tutta questa finta ipocrisia ormai, è bene che finisca, mi debba frenare perché altrimenti potrei andare oltre il seminato. Dobbiamo individuare correttamente i bisogni, bisogni che appunto in alcuni casi sono legati esclusivamente al tetto, in altri casi sono legati al... però diciamo quasi mai sono legati esclusivamente al tetto. Però voglio dire, quella famosa rete di appunto accoglienza che crea anche dignità, perché siamo sempre lì, buttare dentro delle persone in uno stanzone e lasciarli lì senza privacy, senza... è chiaro che poi provoca anche una reazione di chiusura... Si sentono degli estranei, tra l'altro è una posizione senza difesa, senza schermo protettivo. Quindi il punto non è soltanto trovare un luogo fisico, ma appunto rispondere ai bisogni reali e concreti delle persone. Quindi come dicevamo, sia in termini psicologici, sociali, umani, accompagnare anche verso un minimo di autonomia queste persone, è chiaro che ci sono delle scelte immediate da dover fare, come abbiamo detto, individuare un immobile intanto, però anche nella gestione e anche lì io trovo dei tentativi a livello amministrativo burocratico, però ripeto, non c'è una comunicazione tra quello che fa magari un uffiso e quello che poi viene effettivamente realizzato. Per questo dico, deve essere il sindaco che se ne deve interessare direttamente. Lui a Villaniscemi, accolgo alcuni a Villaniscemi, ma deve essere il sindaco che deve portare avanti un atto deliberativo, una politica sociale per i sensatetti determinata. Lui il problema lo conosce bene, visto che gli altri non ci sono riusciti, perché questo è il risultato. Se l'assuma lui l'impegno in prima persona di risolvere il problema dei sensatetti apparebbe 500 persone che cosa sono per uno che vuole fare pure il presidente dell'ONU? Nulla. Non è polemica, è chiaramente amarezza scarita dal fatto che purtroppo il sensatetti era alloggiato tra virgolette proprio sotto la sede della televisione. Quindi è una reazione quasi giustificata, ma non mi assumo tutte le responsabilità perché sono cosciente di quello che dico. No, il sindaco si era detto indignato almeno delle dichiarazioni. E allora faccia quello che diciamo noi, assuma la delega per il sensatetto, la deve assumere il sindaco, i consiglieri comunali si facciano promotori di organizzare un consiglio comunale straordinario per trattare questo tema e approvi gli atti deliberativi così come sono. Poi ci sono tanti mezzi per approvare immediatamente, si dà un mandato alla commissione entro sette giorni, la commissione l'approva, si ci dà un mandato e si approva poi a sacco d'osso tutto in un colpo. Esattamente. In consiglio comunale. Ci sono metodi velocissimi che quando la politica vuole riesce a trovare. Quando si vuole, anche il 31 si è riunito il consiglio per i debiti di pure bilancio. Ci sono tra l'altro in consiglio comunale dei consiglieri di esperienza, come il vicepresidente del consiglio comunale, che sanno benissimo come fare approvare determinati atti deliberativi in maniera veloce. Quindi facciamo appello anche all'esperienza dei consiglieri comunali che sono presenti in consiglio comunale per portare avanti questo tema. Mi pare che non è un tema su cui c'è uno schieramento politico, ma è un tema di tutti. Un tema che colpisce la città, ripeto, città dell'accoglienza, ma l'accoglienza di che cosa? Un appello, anche facendo... Non vi voglio togliere spazio. No, no, un appello che ricordando una frase di Don Tonino Bello, che era vescovo di Molfetta, il quale diceva ai propri parrocchiani, era vescovo lui, diceva ai suoi parrocchiani, ai parroci, insomma, della sua diocesi, diceva non celebrate messa se prima non avete accolto nelle vostre sacrestie le persone che vivono per strada. Questo appello noi lo rimandiamo al clero e ai parroci e volevo fare un appello allo stesso padre Scurtato, che si è mostrato molto sensibile nei confronti di alcuni temi, lo ha sempre fatto, nei confronti dei poveri, perché venga invitato qua alla nostra, questa emittente, perché anche lui dia il suo contributo è la sua... Noi possiamo invitare tutti coloro che vogliono sposare questa causa, siamo disponibili a farmi intervenire in mezz'ora, invece di intervenire uno, ne facciamo intervenire 50, ma che si risolva questo tema. Che si risolva, che si risolva. Perché veramente tutti siamo responsabili, cioè non è che facendo una dichiarazione sui giornali allora io mi tolgo di responsabile, siamo tutti responsabili, fino a quando il problema non si risolve, siamo tutti responsabili. Io stamattina mi sono vergognato, mi sono mortificato vedendo che ancora questa persona è qua, all'aperto, fuori, chiaramente tra mille coperte, perché la nostra solidarietà la sai qual è, prendiamo una coperta che non utilizziamo più a casa e gliela portiamo qua e questo c'è 50 coperte, ma che se ne fa con 50 coperte? bisogna capire pure che soggetto è psicologicamente, se è provato o meno, se ha altri tipi di problemi, cioè questo bisogna capire, e chi lo dovrebbe fare? Il Comune, lo Stato, ci sono tanti argomenti da trattare, per esempio quella dell'irresponsabilità, perché è arrivato a un certo punto, se la cosa continua, la magistratura che ci sta a fare? perché non interviene, cioè qua non passano i poliziotti, non vedono che c'è questa situazione, è stato segnalato o non è stato segnalato, a Palermo non si sa nulla, quello che succede, sulle morti precedenti non si è saputo niente, non c'è stato nessun colpevole, quindi io posso continuare ad agire, se ho sbagliato politicamente, posso continuare a fare quello, se devo continuare a bruciare, una persona la continua a bruciare, posso fare tutto quello che voglio, ma che senso ha? Dobbiamo porre un limite a questa situazione, ripeto, noi ci tentiamo con queste trasmissioni, speriamo che anche altri accolgano la pelle e facciano come noi, devo riconoscere che voi vi state impegnando in questo campo, tu lo fai da tanti anni, Viviana la stiamo coinvolgendo, non so se me ne vorrai per questo, però io mi sento, da quando ti ho conosciuto, mi sento di coinvolgerti in queste battaglie, perché secondo me sono battaglie che ti fanno onore, ti possono fare solo onore. La cosa importante è che diventino appunto, come dicevamo, battaglie di tutti, non di uno schieramento, non di un consigliere nello specifico, quindi proprio questo è stato il tentativo, anche con questa assemblea, che i comuni cittadini stanno portando avanti e io come consigliere mi sono presentata prima di tutto come cittadina e non come consigliere comunale. E in seconda battuta ho detto usatemi, usatemi per quelle che sono appunto le singole richieste, gli approfondimenti che dobbiamo fare e le proposte che dobbiamo portare avanti. Io spero che davvero la differenza in questi anni, in questi cinque anni, non che dobbiamo impiegare cinque anni, assolutamente, però che deve essere necessariamente un percorso, qualche piccola cosa dobbiamo iniziarla a fare subito, piccola grande cosa, e poi andando avanti mettere proprio a sistema. Non deve essere un'emergenza, questo io dico, non deve essere un'emergenza, perché l'emergenza non puoi riunirti a settembre, ottobre, pensando che a dicembre ci sarà. Vengono fatti tristi, ci deve risolvere prima il culo. Deve essere un meccanismo che funziona e che è ben oleato, e questo può avvenire, dico, al di là del fatto che condivido, che il sindaco debba assumersi assolutamente le proprie responsabilità, però io credo tantissimo nella forza della comunità, e la comunità siamo tutti noi, quindi dobbiamo pressare, aprire gli occhi. Il sindaco è lui, quindi lui si deve assumere la delega, proprio la delega, così risponde in prima persona. Direttamente. Io sono stato cattivello però nel senso positivo, perché ti ho fatto proprio incontrare Nino, perché è una persona che può dare tanto alla vostra causa. Vi vedo qua, non ci sono colori politici, c'è solo il tema della solidarietà che deve essere reale, non deve essere una solidarietà proprio sulla carta, perché qua giochiamo ormai pure con la solidarietà. Siccome a me non piace questo fatto, quindi cerco di dire le cose con la massima chiarezza. Eventualmente quattro nemici in più, molti nemici molto onore, io però ho la coscienza pulita. Avremo modo di vedersi, ti aspetto con padre scordato, con padre scordato, senza. Sono contento di eventualmente trattare questo tema, noi eventualmente ritorneremo, tratteremo continuamente questo tema, sino a quando non si trova una soluzione. E anche quando avremo risposta ad alcune interrogazioni presentate. Tu, con tutto il tuo gruppo, perché chiaramente è un gruppo di opposizione di cui io devo tenere conto, perché dobbiamo sollecitare l'amministrazione comunale. Anche perché è un dato di fatto che le soluzioni in qualche modo approntate ad oggi non hanno sortito evidentemente gli effetti sperati, di Dustonino, quindi qualcosa che non è andato in questi anni, possiamo dire che c'è. Noi abbiamo fatto una trasmissione su questo tema poche settimane fa. Quindi non è che noi l'abbiamo fatto perché c'era un motivo particolare. In quella occasione io avevo incontrato una persona che aveva difficoltà e mi aveva chiesto di venire in televisione. Io senza pensarci due volte, l'ho portato a qua. Immediatamente ho chiamato Nino e ci siamo confrontati. Abbiamo dovuto constatare che questa persona era totalmente abbandonata a se stessa. Quindi speriamo che non sia più così. Io vi ringrazio. Avremo modo di rincontrarci. Ringrazio i telespettatori. Buonasera a tutti. Ringrazio i telespettatori. Grazie. Grazie. Grazie.